bentornati sul figaro lab dopo una lunga pausa estiva è il caso di riprendere i nostri video non ho più scuse adesso si sta freschi qualche lavoro in laboratorio ha dato via abbiamo il tempo di riprendere con i nostri video un argomento che sicuramente è innovativo di cui non avrete mai sentito parlare di sicuro di cui sicuramente non vi siete mai interessati non avete mai visto o cercato in rete materiale riguardo è quello del condensatore nel circuito dei toni benissimo su questo argomento pionieristico e sicuramente innovativo ovviamente sono ironico cercherò di fare chiarezza ovvero è facile trovare in rete una serie di opinioni tra le più disparate c'è chi quasi non sente la differenza tra un valore e l'altro dei condensatori e chi invece a parità di valore è pronto a giurare che un carta e olio abbia qualche proprietà o requisito particolare per cui si comporta meglio di altre metodologie costruttive questo ovviamente non è un modo di entrare in polemica con altri costruttori mi rendo conto che in liuteria in particolar modo quando si cerca di come dire replicare una chitarra d'epoca che ha particolari requisiti una particolare costruzione si cerca di farlo nel modo più filologico possibile quindi anche di andare a recuperare delle componenti che siano logiche rispetto al progetto cosa un pochino più anomala invece è quella di spendere per componenti che rispondono a logiche più di consumismo che funzionali per aggiornare magari uno strumento di produzione corrente nel corso del video vedremo più aspetti di questo argomento e cercheremo di fare un poco di chiarezza vedremo poi alla fine anche una cosa che simpaticamente ho definita il condensatore carta e olio dei poveri come replicare con componenti di produzione corrente quindi anche abbastanza economici la risposta di un carta e olio spero che il video vi piaccia e vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti buona visione eccoci giunti allo spiegone vediamo un identico schema che vi ripropongo due volte che riguarda il circuito volume e tono del pick up al manico di una strato caster andiamo a semplificare tutto il wiring considerando una posizione e duplicato per qual modo per farvi vedere nella posizione chiuso nella posizione aperto qual è la massima escursione possibile del potenziale opero del tono quindi nella parte sinistra dello schema abbiamo un generatore di segnali settato in modo da simulare un pick up per chitarla in questo caso coprirà l'intera gamma audio e non solo le frequenze emesse da un pick up per chitarla normalmente questo resistore che corrisponderà al potenziometro dei toni il tono il condensatore dei toni verso massa in parallelo al volume che andremo a considerare come un resistore al suo massimo valore quindi con il volume a palla 250 kg le uniche variazioni tra due circuiti sono nel valore del potenziometro dei toni che vediamo quando nella posizione chiusa ha un valore che per comodità di calcolo facciamo pari a 1 quando moltiplicando dividendo per 1 il risultato rimane il medesimo e 250k invece che il suo valore massimo ovvero quando il suono della chitarra non risulta influenzato da questo condensatore vediamo la differenza tono aperto come vi dicevo prima abbiamo una linea perfettamente dritta 0 db tono chiuso vediamo l'azione del condensatore azione del condensatore che in questo caso è rappresentata da questa curva in rosso ed è precisamente riferita al condensatore da 22 nano che abbiamo considerato che è un valore standard nella strato caster vediamo cosa avviene andando a crescere come valore all'aumentare della capacità vediamo che non solo aumenta la capacità del controllo di tono di attenuare le frequenze acute si sposta anche la curva risposta verso la parte dei bassi vediamo quindi che gradualmente dai 22 nano farad dai 47 fino ai 100 la chitarra si scurisce maledettamente introduciamo adesso il concetto di tolleranza consideriamo un valore qualsiasi in questo caso 22 nano farad sempre il nostro valore standard per il potenziometro dei toni di una strato caster e vediamo che introducendo una tolleranza di più o meno 10 per cento noi avremo rispetto al valore nominale del componente un'oscillazione nei valori reali che va da 19.8 a 24.2 nano farad come potete vedere dal grafico questa differenza crea delle differenze in termini di attenuazione mediamente do supera dai 2 kg a salire pari a circa più o meno un db ecco va da sé che l'orecchio umano per così per fisiologia non riesce a sentire variazioni che siano inferiori al decibel per cui verosimilmente solo orecchi particolarmente allenati potrebbero notare delle sfumature tra il valore centrale e il suo minimo o il suo massimo vediamo che salendo con il valore a 47 nano farad e a 100 nano farad rimanendo con tolleranze di più o meno 10 per cento questa variazione rimane sempre nell'ordine di un db quindi quasi impercettibile cosa succede invece quando abbiamo dei componenti con tolleranze più ampie ecco questo un discorso da tenere in considerazione quando si parla specialmente di vecchi condensatori con tipologia costruttiva carta e olio oppure a base cera tutti quelli che sono condensatori ormai fuori produzione che vengono acquistati più delle volte nel mondo stock ecco è molto probabile che queste componenti nel corso del tempo subiscano quello che in america chiamano il drifting che in italiano invece chiameremo semplicemente devianza deviazione dal suo valore standard il più delle volte superiori a quelli che erano i valori di etichetta e di tolleranze dell'epoca in cui erano costruiti e spesso verso valori più alti quindi una tolleranza non più del più o meno 20 per cento ma una tolleranza di più 20 più 30 più 40 più 50 via discorrendo in base a quanto è degradato il di elettrico all'interno veniamo che con una tolleranza di più o meno 20 per cento quindi assumendo che possa variare in in deficit o in aumento il suo valore nominale vediamo che 47 nanofarad in questa forbici di tolleranza si muove già in valori molto 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 più grandi e si esprime poi in frequenza con delle variazioni che sono prossime ai 3db prossime 3db per tutti quei valori ovviamente sempre superiori al kilohertz e quindi ecco che quando andiamo ad inserire un condensatore magari carta e olio ci restituisce quella sensazione di maggiore calore ovvero con molta probabilità per fattori legati alle tolleranze per fattori legati al degradare del di elettrico interno avrà aumentato il suo valore in in nanofarad e di conseguenza tenderà ad attenuare più acuti restituendoci un suono meno brillante che noi percepiremo come più caldo facendo lo stesso esercizio e quindi andando a vedere partendo da 47 nanofarad effettivi a un valore pari a 47 più il suo 50 per cento che potrebbe essere un valore di riferimento per dei condensatori diciamo abbastanza malandati d'epoca vediamo che il valore è passato ai 47 nanofarad con più un 50 per cento a quasi 70 nanofarad e crea questa serie di sfumature quindi con più 10 più 20 più 30 più 40 fino a quello grigio che rappresenta più 50 per cento per rendere più evidente qual è questa differenza è sufficiente escludere i valori intermedi quindi consideriamo un condensatore da 47 nanofarad precisi ed avrà questa curva in rosso il 47 nanofarad che ha avuto questo questa deviazione del 50 per cento diventerà 70 nanofarad circa e avrà questa curva in verde la differenza che vedete in questa curva è superiore ai 3db sono 4db di differenza chiaramente 4db è un'enormità ora detto questo considerando che il il grosso potere che hanno questi condensatori dannata di restituirci un suono leggermente più attenuato sugli acuti che il nostro orecchio trova più gradevole come potremmo fare per emulare questo comportamento con componenti moderni ci viene in aiuto una proprietà dei condensatori i condensatori in parallelo si comportano secondo quello che è la slide che vi sto proponendo adesso ovvero la capacità totale di un parallelo di condensatori corrisponderà alla somma dei suoi valori dei valori dei singoli condensatori che compongono questo parallelo per cui con due condensatori possiamo fare quello che io definisco il condensatore carta e olio dei poveri attestandoci quindi su una variazione di circa il 30 per cento in più di quello che era il valore nominale di etichetta si può supporre che un condensatore da 47 nanofarad abbia raggiunto un valore prossimo superiore a 60 in questo caso 61.1 come potremmo fare per ottenere lo stesso risultato senza spendere un'eresia per un condensatore che è palesemente fuori tolleranza andando ad agire semplicemente su una somma di due condensatori su un parallelo e utilizzando dei valori standard in questo caso 47 più 15 nanofarad in parallelo otteniamo 62 nanofarad il risultato è quello delle curve qui sopra queste sono due curve una in verde e una in rosso sono perfettamente sovrapponibili come vedete quasi non si distinguono e le differenze sono inferiori al decimo di db quindi impercettibili rispetto alla risoluzione del nostro orecchio anche l'orecchio più allenato non sentirebbe la differenza bene anche questo video è finito adesso sapete se dovete impegnare un rene per comprare un carta a olio o se potete fare diversamente vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e di mettere un like al video se è stato di vostro gradimento al prossimo video iscriviti al canale